Dal Palazzo dell'Estilino di Milano per giocare a carta bianca. Sì, sì Valentina, io sono Massimiliano Salini, faccio il Parlamento Europeo ma faccio anche il coordinatore regionale di Forza Italia e sono qui oggi proprio per raccontare come intendo fare il coordinatore e quindi ti do volentieri carta bianca. Grazie mille, ma qual è la novità? La novità è che ci strutturiamo attraverso una segreteria di giovani, età media, 35 anni, gente che sul territorio ha dimostrato di saper lavorare, quindi non è una segreteria che ha il compito di autogiustificarsi dicendo sì esistiamo ma in modo teorevo, è una segreteria che ha verificato sul campo la voglia di lavorare e di innovare. Secondo me tra qualcuno di voi ci potrebbe essere un futuro qua dentro, chissà, fatemelo sapere. Ciao a voi!